Gioia nel testimoniare il Vangelo di Cristo, dialogo costruttivo ed inclusivo per il bene comune, tutela della famiglia e del creato. Sono stati questi suggerimenti che Papa Francesco ha voluto lasciare agli uomini e alle donne dell'Equador, primo tassello del trittico del suo nono viaggio apostolico. Giunto domenica pomeriggio a Chito, come testimone della misericordia di Dio e della fede in Gesù, il Pontefice ha da subito indicato l'esempio dei Santi per risplendere nella luce del Figlio di Dio. Oggi anche noi possiamo trovare nel Vangelo le chiavi che ci permettono di affrontare le sfide attuali, apprezzando le differenze, promuovendo il dialogo e la partecipazione senza esclusioni, affinché i passi avanti in progresso e sviluppo che si stanno ottenendo si consolidino e garantiscano un futuro migliore per tutti, riservando una speciale attenzione ai nostri fratelli più fragili e alle minoranze più vulnerabili. Il secondo giorno in Ecuador è stato scandito dalla messa celebrata a Guayaquilla, nel parche dello Samanes e dedicata alla famiglia. L'ospedale più vicino, la prima scuola dei bambini, il punto di riferimento imprescindibile per i giovani, il miglior asilo per gli anziani. Chiedendo preghiere per il prossimo Sinodo dei Vescovi, dedicato proprio a questo tema, perché persino quello che ci scandalizza, Dio lo possa trasformare in miracolo, il Pontefice ha ribadito che la società è chiamata a riconoscere il debito che ha nei confronti di tale istituzione. Il servizio è il criterio del vero amore. Chi ama serve, si mette al servizio degli altri. E questo si impara specialmente nella famiglia, dove ci facciamo per amore servitori gli uni degli altri. In seno alla famiglia nessuno è escluso, tutti valgono lo stesso. Mi ricordo che una volta chiesero a mia mamma quale dei suoi cinque figli, perché noi siamo cinque fratelli, quale dei suoi cinque figli amava di più. E lei disse, come le dita, se mi pungono questo mi fa male lo stesso, come se mi pungono questo. Una madre ama i suoi figli come sono. E in una famiglia i fratelli si amano come sono. Nessuno è scartato. Lì, nella famiglia, si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire grazie come espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l'aggressività o l'avidità. E lì si impara anche a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. A dominar l'aggressività o la voracità. E lì si apprende anche a chiedere perdono quando facciamo algún daño, quando nos peleamos. Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato anche alla celebrazione eucaristica al Parco del Bicentenario. Nel luogo dove risuonò il grido di indipendenza dell'America hispanofona, il Pontefice ha detto che la fede è rivoluzionaria e che Gesù, cheppure ha sperimentato intrighi, sfiducia e tradimento, ci invia in questo mondo, lacerato dalle guerre e dalla violenza. L'evangelizzazione non consiste nel fare proselitismo. Il proselitismo è una caricatura dell'evangelizzazione, ma nell'attrarre con la nostra testimonianza i lontani, nell'avvicinarci umilmente a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa. Nel costruire una società che non esclude, che non volta le spalle ai poveri abbandonati e maltrattati, alla terra oppressa e devastata, le comunità educative hanno un ruolo vitale formando i giovani futuro dell'umanità. Incontrando il mondo della scuola e dell'università presso la Pontificia Università Cattolica dell'Ecuador, il successore Di Pietro ha ricordato ai presenti che il tempo di studio non è solo un diritto, ma anche un privilegio. Non basta fare analisi, descrivere la realtà. È necessario dar vita ad ambiti, a luoghi di ricerca vera e propria, a dibattiti che generino alternative ai problemi esistenti, specialmente oggi, che è necessario andare al concreto. Nella Chiesa di San Francesco, martedì pomeriggio, durante l'incontro con la società civile, è tornato con forza il tema della famiglia, dove si coltivano valori sociali essenziali, la gratuità, la solidarietà e la sussidierietà. L'amore sempre si comunica, tende alla comunicazione, mai all'isolamento. Le ultime ore in Ecuador, Papa Francesco le ha vissute con la Chiesa locale, anzitutto con le missionarie della Carità di Tumbaco, dove le eredi spirituali di Madre Teresa gestiscono una casa di riposo per anziani. Poi c'è stato l'abbraccio grato e festante con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi presso il Santuario Nazionale Mariano, il Chinze. Dopo una breve preghiera alla Virchene, il Pontefice ha abbandonato il discorso ufficiale per offrire alcune riflessioni spontanee. I tre giorni trascorsi in Ecuador, infatti, hanno permesso al successore di Pietro di sperimentare la fede cristallina delle persone e la loro profonda devozione a Maria. A tutti, Papa Bergoglio ha chiesto di avere sempre una profonda coscienza di gratuità e perseveranza, ringraziando per quanto hanno ricevuto, gratis e senza meriti particolari.